Cosa spinge un eroe di guerra a rapinare un covo di spacciatori? Non posso permettermi i medicina. Lei ha dei coaguli nel sano. Ho un'idea, penso proprio di poterti aiutare. C'è una prigione nei soborghi della città. Vorrei che tu entrassi in quel posto e trovassi prove evidenti di violazioni dei diritti umani. E a quel punto sarai un uomo libero. Potrai tornare dalla tua bambina. Beh, sei all'interno del sistema ora, soldato. Ti serviranno alleati. Me la cavo da solo. Spero tu sappia combattere. Puoi metterci tutto il cuore che vuoi, ma ti servirà un po' di destrezza. Il direttore vuole vederti. Io gestisco questo posto. Io ho creato l'arena. È un modo per poter tornare da tua figlia. Combatti per noi e poi sarai libero. Ci hanno rinchiuso come animali. E dobbiamo combattere come loro. Lattate! Devi andare là come se fossi la morte in persona. Sei una minaccia adesso. Sei intimidito? Non mi faccio intimidire da nessuno. Ora sei nel sistema e te ne vai solo quando lo dico io. È ora di rompere il culo a quel tizio. Dai, cazzo! Io voglio solo mia figlia. No, sono solo io, amico. E domanda. Ciao! Coppa!